Allora, signori, adesso noi andiamo a cucinare, perché... Perché sì. Siete tranquilli voi, io sono molto sereno. Posso dirti una roba? Cosa potrebbe mai andare storto? If you like me with your video, you will love me with your life. Link in the description below. Oggi noi cuciniamo dei pancake già pronti. Perché sento mio, Eiko? Fenice. Noi faremo. Ma mi sento doppio. Ma Fenice. Ah, ecco perché... Hai fatto sparare a 900 euro di coso, ma sei fuori di te. Allora, senti ancora. Eh! Ma li fai lì? Ovvio qui. Allora, per prima... Oggi ragazzi, buonasera. Oggi noi abbiamo bisogno... Volevo prendere il peanut butter e il chocolate butter, solo che l'ho portato di là. Allora vecchio, ci abbiamo. White chocolate con zero zuccheri o cookies and cream. Bro, quale scegliamo? Cioccolato bianco o con biscotto e crema? Secondo me biscotto. Biscotto e crema, bravo vecchio. Mi ispira di più. Perché cioccolato bianco è... Non ti dà, vero? I basic. Fra biscotto e crema, adesso io ti dico... Ti leggo come si fa, ma come si va? Sarà scritto. E' anche... It, preparati standagno. E consigli per l'uso. In una ciotola aggiungere tre misurini di polvere a 40 millilitri d'acqua o latte. Non ho capito. Facile. Oh, una cazzata. Finirà. Maledizione, non ce lo so. Io pensavo di scherzare, però qui ti faccio dei cazzo di pancake assurdi. Ci sei? Mmh. Allora, non ho un po' di cosa. Ma va bene uguale. Perfetto. E allora? Non servono. Non servono, assolutamente. La pistola serve? Appoggio qua un attimo. C'ho la bilancia, metto questo sopra. Sai cosa sarebbe successo? Un macello, Finirice. Veramente un macello. Perché mezzo chilo di farina sarebbe stato devastante. Ma sai cosa? Mh. Per così. Io non so quanto è 40 millilitri. Saranno 40 grammi circa. E leggi sulla scatola. Quant'è? Una scatola del latte. Non dice quant'è la cosa. 250. Allora non ci va. Più o meno saranno 40 grammi, ok. Però adesso una 32. 45. Perfetto. Perfetto. Dai, un po' di più. Aggiungere tre misurini, 25 grammi. Si intende 25 grammi? Oppure 3 per 25? No, non ho capito. Mi è confuso. Allora dov'è? In una ciotola aggiungere tre misurini, tra parentesi, 25 grammi. Cioè tre misurini a 25 grammi o in totale sono 25 grammi? In teoria tre da 25. Ah, c'è il misurino, brother. Allora tu mettine tre. Ah, ne metto un brother, ti danno il misurino. Il primo bello pieno. Uno. Due. E tre. Posto. Madonna. Brother, sa di oreo. Buono. Mi sono, ho aspirato un po' di polvere. Poi. Dove stanno le istruzioni? Ce l'avevo in mano. È il bro sacchetto di striscia. Ah, è vero, vecchio? Eh, dillo prima, eh. Scusa. Ok, allora, vecchio. Qua è molto semplice. Ti dice, in una ciotola, questa è una ciotola, come la vedi, aggiungere. Come quella. Tre misurini a 25 di polvere e a 40 millilitri di latte. Versare la miscela in una padella unta e cuocere a fuoco medio. Imposto. A giro prima, no? Sì, giro prima un po'. Un cucchiaio? Come vuoi. Io ho capito, ma con sta roba che faccio? Vecchio, ma cosa ci esce con sta roba qua? Un pancake? Assendomi uno. Infatti, non ho capito, ma che è? Ma no, in realtà, assendomi... Ma no, vecchio, è un pancake. Ma è un mini pancake, sta roba. Bra, ma lì ti si usa una padella e se io uso la crepiera? Volevo dire, questa è la crepiera fatta apposta di protis per le creppe e i pancake. Oh, oh, mi ha attaccato, mi ha attaccato la crepiera. Oh, no. Figo, però, eh. Ma come si usa una crepiera? In caso tu l'hai comprata. Bra, sereno. Ci sono le istruzioni, però si si arriva anche qua. Ma non penso che servono le istruzioni per una crepiera. Noi ci sono neanche. Con lei che va il cavo. A posto. Finito. Quando la piastra di cottura raggiunge la temperatura desiderata... E io quale cazzo so qual è la temperatura... E non dice tipo un... Bra, qua dice una cosa. Dice di scaldarla. Una volta che è calda dice di intingere la padella nella ciotola. Ma quindi lì non c'entra in quella ciotola. Vabbè, la appoggio supera. Mamma, c'è. Ah, no, sereno, sereno. Io ho cucinato per un botto di persone. Ah! Ok, ci sono. Oh, oh, frascalda! Noi ti scalda anche la scrivania. Quindi si scioglie e buca sotto. Infatti, non è che buco, porco due. Cioè, non è che chiappa fuoco il tappetino. Regà, non cuocete con tre schermi davanti. Oh, oh, ma è bollente! Ecco perché c'è scritto da utilizzare solo nell'ambiente di cucina. Vabbè, 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 vabbè. Se uno non ha la cucina... If anyone don't have any kind of cucina... Attacchi. Io ho posto, è caldo però. Scalda, oh! S'è spento, s'è spento! E quindi? Non lo so, vecchio. Che devo fare? No! No! Cora! No! Ok, il primo pancake sta venendo una meraviglia! Meraviglia! Ok, ok. È un po' una schizzatina questo. Questo è venuto un po' così. Vabbè, d'altronde... Eh, succede. Io l'ho detto che... Io lo sapevo. Lo sapevo. Ok. No, 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 una... Una spatola... Oppala, vecchio! Vecchio, sei scandaloso. Che gran pancake! Allora, ti devo dire... Guardate che a bordo... Guardate che a bordo è uno dei migliori pancake che abbia mai fatto, ecco. Ah, perché ne hai mai fatto uno? Brother, te ci scherzi, sai come mi chiamavano? Eh... Niente, Luca, perché... È una piastra tonda al contrario, capito? Cioè, è... È una piastra tonda al contrario? Dimmi se l'hai mai usata! Non l'hai mai usata perché... Sì? È cazzo, ma è difficilissimo! È al contrario! Ma scalda? Eh, mi stai... Ma scalda. Il pancake bruciato. Allora, ti devo dire... Almeno ha salto. Dai, non può non essere buono. Vecchio, il primo è venuto male. Vai, sereno. Eh, quanti... Quanti pancake dovevano uscire? Due piccolini? Quando escono? 18. Allora, questo è troppo... È troppo liquido, deve essere più denso. Minchia... Dove vai? Eh, vabbè... Cioppati! No! Ma dai! Ma sei... Stronza, però! Ma tirala un po' su. Però, ho fatto un cavallino. Cavallo senza zampe, però. Ok, ok. Questo già sta venendo... L'ultimo, vecchio, mi viene una figata, vecchio, te lo giuro. L'ultimo viene una bomba nucleare. Vecchio, sto proteggi perché alla fine non mangi un cazzo, dato che escono fuori dei cavallini. Oddio, che carino! Non ho qualche problema, sto cavallino. Eh, vecchio, da piccolo è stato zoppigato, vedi? Oh, però è un gran pancake! Te lo sai fare un cavallo, un coglione? Oppala! Oh, questo ha un bel colore, però, guarda! Questo ha un bel colore da pancake, questo sì. Questo sì. Esattamente. Tu, le volevi mettere con la crema spalmabile, no? Sì. Dove cazzo la spalmi, la crema? Non capisci un cazzo, vecchio. Perché dopo, vedi, questo qui tu lo metti qua, è tutto unito, vedi? Così diventa un'iguana, diventa un'iguana, vecchio. Stai zitti. Ok. Fra, una gallina ho fatto. Stava andando bene. Stava andando bene. Oh mio Dio. Oppa! Recuperato! Eppa! Oppa! Ok. Ti prego, prendi fuoco subito! No! No! Ti dico però, male male non è. È particolare questo pancake. Vedi che adesso ha l'impasto di un pancake? Ti prego, chiappa fuoco subito. Eh, Fra, un po' di grumi perché non ho una forchetta. Sto scivolando, sto scivolando. No! Vedi, è fermato. Vedi, è fermato. Questi, questi stanno diventando assurdi, eh? Dio, ma sembra una testa. Fra, questo è il naso. Yo! Yo! Attenzione. Assaggio il cavallo, brother. Ah, quanto sono sottili, bro. Hai dato la piatella. Già questo è più spesso. Ma questi, cazzo, sono dei lenzuoli. Però è vero, sono di biscotto. Puttana! L'unico buono mi è caduto! Vabbè. Vabbè, è pulito. Ci ha sputato sopra. No, è un soffio compresso. Ha disinfettato. Disinfettante. Bello! Questo, tanta roba! Tanta roba, questo! Allora, vecchio. Troccava a mettere un po' più di farina. L'impasto perché... No, inteso. Vedi che adesso vengono molto bene. Eh niente, sta diventando un cuorecino obeso. Ma che cuorecini conosci? È molto strano. Sotticino. Fra, un cuore vero però, proprio tutto deforme, dico. Qui tu ti ha dare consigli, vecchio. Adesso io faccio una domanda. Quanti di voi hanno mai cotto qualcosa sopra una cazzo di crepiera? Ma non è che c'è va tipo la custodia? Boh, no. Ok. Penso. Quanti di voi hanno mai cotto in una roba così? Ah, tutti io, io, io. Ma intanto qua, i vostri panchecchi è col cazzo che non li vedo. Capito? Col cazzo che li vedo. Dunque posso dire, guarda che cazzo di panchecchi ho fatto. Guarda che roba. Sì, e quanto hai sforato le dosi? È a gusto. È a gusto. Questi sono proteici per le persone che hanno bisogno di proteins. Io ne volevo ancora più proteine. Perché ti alleni veramente così tanto, te lo giuro. Andri, guardami negli occhi. Ti sto guardando. Dammi un bacio. Signore, pancake pronti. Ora voglio assaggiare la roba più buona del mondo. Peanut butter, choco butter. Non secondo me sono assurdo queste cose. Ah, io le ho già, guarda, guarda, vecchio. Non sto scherzando, guarda ieri quanto ne ho mangiata. Ah, madonna. Eh, vecchio, questa è sgravissima. È andato di fatto quella. Allora, li metto così, prendo quelli più freddini. Oh, guarda il tumorini sotto. Ma puttanaccia. Vecchio, questa cioccolata è stupefacente. Perché non è dolce tantissimo. Vecchio, finisce, finisce. Questa vecchio è una golosità pura. Cioccolata, oddio, vecchio. Certo che insieme non avete mai provato burro d'arachidi e... Vabbè, brother, vecchio. Da una parte cioccolato, dall'altra burro d'arachidi. Madonna. Bambi, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give meです night. Ciao